Si è tenuto ieri un incontro operativo voluto dal delegato alla Polizia Municipale, il consigliere Ciro Troccoli. All'incontro hanno partecipato anche il sindaco romano, il capo di gabinetto del sindaco Antonio Troccoli ed alcuni degli agenti che attualmente svolgono il servizio di Polizia Municipale. Sono stati affrontati vari argomenti, ma il delegato Troccoli ha voluto sottolineare quali saranno da parte sua le linee guida che intenderà adottare. Ascoltiamo il suo contributo. Intens codice per capire il suo materiale. che si trattano i finanziari annomi per... un batterio mostro per una nuova generazione a dare un attenzione per tutta una nuova risulta, un personaggio che non ha contestato con la batteria di solito. Succesivamente per questo suo contatto è un attenzione, un attenzione, un attenzione di un attenzione, un attenzione, un attenzione, un attenzione, un attenzione, un attenzione di visione sull'ate, quindi abbiamo già una manifestazione con il suo agente e con il suo sapere che non ha giusto a comprare cose in un'attività di superlontamento, in un'attività della reale, del fenomeno, della reale, di una azienda di reale, di una cosa meno di ricorda, di una grande relazione. un'interazione della tenera una nuova, c'è una domanda di servito a una domanda che non è un problema che non Xiaomi mi sono d'acqua, ma noi mi sono detto che si svegge a farlo e affalde a un altro ponitore e poi le escoci le sono conti perché la relazione della tenera che la comfortable e la relazione è stessa un po' si viene al momento in italiano, è un po' sezione di importante solo ...e lo sorprende. Ma prima delle azotate, nel suboscritto per la loro unizione a una delle intersepte, che si è una delle attenzione per la loro unione coperta. E' una gente, la ragazzina è una cosa che riguarda ogni ora, aspetta un'epore di una parola, che c'è più di tutto il tema dell'amoratore e di un'amor. Sono sempre un'epore d'al Staat. E' qualcosa che dice, Com'è l'autorezza? C'è un'autorezza come attente per una professione, rispetto a loro in un città, ma vanno a dire che non è la possibilità di fare più di fare più di farlo, è un senso a questo qui è un'autorezza, che è di fare più di attraverso il carico, che è una nascita è un'autorezza, che è un'autorezza, che c'è un'autorezza, che è un'autorezza della svettura, ma non saranno tutti i cari di carico, ma adesso è udendo unaécita, la prossima presentazione di una risoluzione, per esempio, è una terapia, un attuale attuale con un disegno, un apporto di questa ragazza, che ha una contensione della scuola di un attuale interruzio. Quindi, un attuale c'era un'interruzione per un'interruzione di una risposta in termine di armonizzazione, anche in modo di lavorare tutto il momento, sono per disperare molti rischi, forse, per un'interruzione, per un'interruzione, per un'interruzione di poter mandare il risonare spettacolo, e questa sono un po' delle ricinzioni, un'interruzione delle ricinzioni, per esempio, quella data주azione o un'interruzione di autunità che ci sono tutti di un'interruzione, proprio questa domanda, come si deve lasciare per un giancardo di sperimentare a fare un'interruzione delle ottime, perché nelle basalette, comunque quali la ragazza e la prossima, l'interruzione di autunità che trovano questo modo buonetane che l'acquina è molto necessaria, in questo senso, la situazione è molto importante, ma questa è una buona eserva che non c'è la storia, non c'è la storia, non c'è la storia, non c'è la storia, non c'è la storia. E' successivamente, sempre a questo conto Gesù, nella nata, la gente la può essere un'azione per essere affinché la storia, non c'è il problema, non c'è la storia che è funzione della polizia inglese italiana, ma anche il polizia italiana, il processo è un polizia, un polizia, un polizia italiana. In questo modo noi faremo un produttore per le quali sono le competenze esercizi. Dipende sicuramente tutta la vita con l'internezione in Italia, se è molto importante l'interno della polizia italiana, se è molto importante per il parco. Ma sicuramente pensiamo in direzione alla polizia italiana, dopo sicuramente un tempo è solo d'arri a l'esqueda al caso del polizia italiana, ma in più di una malattia critica l'acqua di di essi. Sicuramente non è possibile fare le ma aveva torno per su qualcosa che fa lì e lui, come ha sc�ato la moderna, un'ashell l'accento di colazione, un'ergero da un'ergo. La costa di realizzazione quali le persone non sono come esvotare una costa di realizzazione a un'ergo del governo del profilo che un'ergo del genere, non sono come anche il continente di realizzazione quali le persone sono le persone. Ci sono parte di essere uguale sulla persona di quali ilsi affacciano per il persone affermare e basse via di amministrazione del sportivo e senso come io tra i due intervento e soprattutto senza alcun porto a fortuna, ma due alle contestazioni sono tutte quelle che rappresentano sono le fortuna, non sono le nostre strade, non sono ci sono i strani terminerali e comunque io sono le gioco a calcolare, non soppare e ha una esperta di un'altra pezca. Ma allora sono tutti gli degli ambienti, ma si vanno con il nostro loro problema. ma sicuremo una finestra bolsa che non sono un po' orso come un cittadino anche per rispondere cosa, non ho avuto il accesso e potrebbe essere, però nel momento è una rinforzata Cosa cosa fa? Cosa fa? E' una rinforzata originaria di rotgrassi, nel momento è una rinforzata, nell'abbraccio per lavorare, in cittadino, la materia, perché la giornata possiamo carbole, inserita Grazie per la visione!